Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti Tappeto Kaisarichele. Lavorazione, anno dato a mano. Spessore circa. 6 mm. Pelo, lana. Ordito, cotone. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie a tutti.